Cartier Pasha, un orologio iconico dal fascino esotico. La collezione Pasha di Cartier rappresenta una pietra miliare nella produzione di orologi di lusso. Il suo nome è un omaggio al prestigioso ispiratore della linea, il Pasha di Marrakesh, Tamiel Glaouy, che negli anni 30 si rivolse direttamente alla boutique di Rue de la Paix, a Parigi con una richiesta speciale, un orologio impermeabile, ideale anche per l'uso in piscina. La risposta di Cartier a questa richiesta fu l'invenzione di un sistema di impermeabilizzazione della corona, che in seguito venne ulteriormente perfezionato. Il Pasha originale si caratterizzava per una cassa rotonda, levigata e massiccia, e la sua estetica opulenta richiamava direttamente l'ispirazione del Pasha. Aveva una cassa in oro, una griglia protettiva sul quadrante e una capsula copricorona collegata alla cassa tramite una catenella. Questa capsula proteggeva la corona e si è poi evoluta negli anni. Inizialmente, la protezione per il vetro consisteva in quattro piccole barri perpendicolari tra loro, ma successivamente fu introdotto un vetro infrangibile, eliminando la necessità di tali barri. Tuttavia, la caratteristica più iconica del Cartier Pasha rimane la corona con protezione abitata, un dettaglio che ha reso questo orologio particolarmente popolare tra la marina militare americana e sovietica fino agli anni 50. La seconda rinascita del Cartier Pasha avvenne nel 1985, quando il modello fu reinventato e lanciato come parte di una collezione completamente rinnovata. Nonostante il notevole diametro della cassa, il Pasha divenne un successo anche tra il pubblico femminile. Il modello base, chiamato Pasha C, era realizzato in acciaio, con una cassa da 35 mm, una ghiera liscia, un bracciale a maglie piatte, un movimento meccanico automatico e un vetro zaffiro. Questo orologio era caratterizzato da un design minimalista, con indici, a barretta o numeri arabi sul quadrante, disponibile in varie tonalità. Il Cartier Pasha comprende diverse varianti, tra cui il Pasha Plonger Acciaio e il Pasha Cronografo, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Mentre alcuni modelli sono più adatti a un pubblico maschile, il Pasha C è unisex, dimostrando l'ampia versatilità della collezione. La collezione Pasha ha anche una serie di lussuosi esemplari ad alte complicazioni, realizzati in oro 18 carati e dotati di quadranti guilloche, fatti a mano. Questi orologi comprendono caratteristiche come fasi lunari, calendario perpetuo, indicazione dell'anno bisestile e ripetizioni a minuti. Nonostante alcune variazioni stilistiche il Pasha rimane un'icona di eleganza e raffinatezza.